Io ho finito, ho finito, ho finito. Adesso quando toccherai questo, cosa ho fatto? Adesso, cosa ho fatto adesso? Adesso, adesso cosa ho fatto papà? Papà, sai cosa ho fatto? Guarda, 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 guarda. Ma così non è meglio. Non è meglio. È bravo, è bravo. Sì, no. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum.